Musica Ben ritornati cari telespettatori, siamo insieme alle nostre ospiti della CISL Padova Erovigo, sindacato per parlare del mondo del mercato del lavoro che è cambiato, è in cambiamento, c'è un'evoluzione importante, significativa e quindi che cosa sta succedendo e qual è la reazione e la presa di posizione anche da parte del sindacato stesso. Nel territorio provinciale, emblematico però anche a livello regionale di Padova Erovigo, una zona dove ci sono moltissime realtà aziendali, per carità anche moltissime imprese, partite IVA, c'è un po' di tutto e poi un territorio quello di Erovigo che è a situazioni di difficoltà o comunque di criticità diverse. Chi è con noi? Allora Francesca Pizzo, ben ritornata, segretaria organizzativa Ust CISL Padova Erovigo, grazie di essere qui con noi segretaria. Buongiorno a tutti e a tutte. E poi abbiamo Alessandra Munaro dello sportello servizi lavoro CISL Padova Erovigo, grazie anche a lei di essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, mercato del lavoro, sono usciti i dati ufficiali di come sta andando la situazione, al di là del fatto che è preannunciata una ripresa economica in modo particolare nel Veneto significativa, due cifre per il scomparto turistico e non soltanto, non si sono fatti conti con i rincari mostruosi materie prime, prezzi al consumo e inflazione, che quello secondo me non so se andrà a destabilizzare tutti i pronostici di crescita. Però, com'è il quadro che voi vedete? Ma, allora, il dato che emerge è in sostanza una tendenza ad una ripresa che però, mi permetto di dire, ci si aspettava anche, nel senso che comunque, partendo da zero, è chiaro che poteva solo migliorare. E' chiaro che quello che fa più effetto è sicuramente l'ambito del settore del turismo, se pensiamo solo al settore termale, ad esempio abbiamo visto nei giorni scorsi, è partito alla grande il bonus terme, che ha anche bloccato poi gli accessi di fatto, quindi ha dato ad esempio una buona spinta anche questo, quindi è chiaro che questa è anche per ora ancora una stagione in divenire, perché gli alberghi, insomma, salvo quelli che chiudevano poi a novembre, insomma per qualche giorno poi hanno tutta la stagione fino a dicembre, si tratterà poi di vedere ovviamente come andranno anche i dati dal punto di vista sanitario, chiaramente, però da quel punto di vista c'è una ripartenza, ma stiamo parlando sempre comunque di contratti a termine per ora, per cui uno dei dati che ci preoccupa di più e su cui noi stiamo tentando poi di lavorare, anche per creare una continuità dal punto di vista lavorativo, è proprio il fatto che c'è una precarizzazione del lavoro che in questo momento fa gioco forza anche con un periodo difficile vissuto dai lavoratori, per cui c'è una tendenza anche a cambiare appunto il lavoro, a dimettersi, per cercare anche delle modalità di lavoro più flessibili. Noi abbiamo il caso ad esempio su Rovigo di Amazon, che effettivamente intercetta diverso personale pur con una modalità di lavoro che non è quella che noi ospichiamo, quindi però ha una certa attrattività, ha una certa attrattività per i giovani ma anche per i meno giovani, ma addirittura per personale che magari viene anche da distante, i contratti non hanno una continuità perché comunque non si riesce neanche a sapere se potranno essere prorogati se non il giorno prima o il giorno stesso. Però le persone non se ne fanno problema. Esattamente, quindi ha una controtendenza. La cosa stranissima è che fino a qualche tempo fa tutti erano preoccupati del fatto di avere il contratto a tempo indeterminato, più lungo possibile, le aziende che nichiavano, non voglio tenermi dipendente per chissà quanto tempo, perché poi si è capovolta improvvisamente dopo questa stasi la situazione, è il lavoratore che dice anche no per sempre e chissà quanto, dipende se la cosa mi va bene, è l'azienda che cerca invece di trattenerlo, perché una volta che lo formi e che assolvi una funzione, se viene meno ti crea anche dei problemi tra l'altro. Sì, in realtà è così, poi mettiamo insieme tutto il contesto, nel senso che poi anche la questione Green Pass, tutti gli aggiornamenti che ci sono stati anche in materia di Covid, hanno scombussolato un po' anche tutta l'organizzazione del lavoro. Che secondo voi ha inciso, secondo voi sindacato questo discorso del Green Pass oppure un po' anche montato, perché tante aziende temevano peggio e poi alla fine... In realtà ha inciso relativamente, è che è l'insieme delle cose che hanno inciso, perché anche la fase di smart working, prima lo smart working spinto, prima non esisteva lo smart working, poi lo smart working spinto, poi rientriamo dallo smart working, quindi... Il home working, chiamiamolo così. Il home work, appunto, rientra in quel lavoro, anche che stiamo facendo, come c'è il Padova Rovigo, con quel famoso sportello che abbiamo attivato sul benessere organizzativo, sullo star bene al lavoro. Lei, come va? Allora, lo stiamo promuovendo, c'è un ritorno interessante dal punto di vista anche, perché dobbiamo poi veicolarlo tramite anche le nostre categorie, c'è un ritorno interessante, è chiaro che si deve comprendere bene e fare delle progettualità specifiche in alcune aziende, ed è quello che stiamo cercando di promuovere, e avremo da gennaio in realtà potenzialmente due aziende che faranno un percorso progettuale interessante. Rispieghiamo, visto che il tempo c'è, due parole, perché poi meritano, dopo chiederò anche a Dara Sanna. Questo è stato un test che voi state facendo, che riguarda che cosa in modo particolare? Perché è interessante, secondo me? Riguarda proprio l'affrontare quei temi all'interno delle aziende sulla questione organizzativa, sul benessere organizzativo, perché tutte le modifiche, le nuove modalità di lavoro, tra smart working, alternato e anche la condivisione, anche con i colleghi che non si vedono più in ufficio, ma di fatto sono strettamente collegati nell'organizzazione del lavoro, anche solo per il passaggio di consegne tra chi è smart working e chi è al lavoro, hanno creato effettivamente uno scomussolamento dal punto di vista anche dell'organizzazione anche personale, in positivo perché magari uno è più a casa, quindi riesce a gestirsi meglio alcune attività, ma a volte anche in negativo perché non c'è quel confronto che è indispensabile anche per una crescita nel mondo del lavoro. E quindi noi abbiamo attivato questo sportello che prende in carico ad oggi individualmente alcune persone che si vogliono rivolgere a noi e che dà delle risposte e attiva una propositività nei confronti sia della persona ma poi eventualmente anche in azienda tramite i delegati per cercare di favorire un rilassamento, un equilibrio nuovo nel mondo del lavoro che dia una possibilità di lavorare meglio all'interno delle aziende. E quindi noi cerchiamo di rilevare i bisogni delle persone in questo senso, qual è la criticità all'interno del luogo di lavoro e poi cercare di prospettare delle soluzioni in questo tema. Quindi la fase ancora propositiva di interazione con l'azienda deve avvenire? Arriverà a gennaio con appunto delle, prenderemo, avremo delle aziende, un paio di aziende che adesso di cui per ora non faccio un nome perché è proprio un lancio che poi faremo e che si sono rese disponibili a fare effettivamente delle progettualità condividendole con il sindacato per migliorare il benessere organizzativo all'interno della propria azienda. Quindi farse al meglio i lavoratori ma nel contempo trattenerli anche all'interno dell'azienda perché questo è l'altro aspetto. Anche a lei risulta quindi che c'è una sorta di malessere generale, di non benessere un po' per tanti lavoratori. Sì, anche a causa della pandemia chiaramente lo stress e lavoro correlato se ne sente sempre molto parlare è ad altissimi livelli. Quello che noi ci proponiamo come CISL, con lo sportello Well CISL appunto è di prendere in carico dal punto di vista prettamente tecnico ovviamente io mi occupo di questo e quindi parlo dal punto di vista tecnico di accogliere il lavoratore che si rivolge a noi perché manifesta un disagio capire e individuare la natura di questo disagio perché può essere ovviamente correlata all'organizzazione lavorativa e allora si attiva tutto un canale di attività appunto come diceva giustamente Francesca che andranno anche a coinvolgere le aziende ma può essere anche di natura personale allora siccome la persona che accoglie gli utenti è una psicologa questa persona se si accorge che il disagio deriva da motivi personali si occuperà di indirizzare a degli specialisti chiaramente la persona perché è necessario scindere le due cose se il disagio deriva dall'organizzazione del lavoro allora andiamo ad attivarci su quello altrimenti è corretto che la persona segua un percorso personale Assolutamente ma in generale questo è un po' senza indagini in corso il sentiment cos'è? che è il mondo del lavoro che non è più adatto alle cambiamenti avvenuti e quindi necessita veramente degli interventi o sono le persone che a questo punto sono cambiate e quindi non si ritrovano più in tanti meccanismi che possono sfociare in proteste contro il Green Pass proteste contro questo perché c'è una sorta di malessere che non è solo qui è proprio trasversale perché poi io leggevo anche giornali che riguardano la realtà estere anche negli Stati Uniti anche là non è che se la passano bene in realtà sono entrambe le cose nel senso che la fase che abbiamo vissuto è una fase che è sui generis cioè non l'abbiamo mai potuta sperimentare prima però è anche vero che c'è un importante lavoro da fare anche in termini di orientamento sicuramente dal punto di vista del lavoro cosa che noi facciamo appunto con lo sportello lavoro magari poi Alessandra specificerà meglio la nostra attività e sicuramente dal punto di vista appunto dell'orientamento a partire dalle scuole ma l'abbiamo sempre detto nel senso che purtroppo alcune cose sono state abbandonate nel tempo anche l'alternanza scuola lavoro ha cambiato faccia non ha più avuto quel fervore quell'attività che aveva precedentemente e soprattutto anche una cognizione di quello che sono i settori attrattivi perché è chiaro che ognuno di noi ha una propensione però che ci siano mille non so avvocati piuttosto che mille benissimo perché uno deve seguire la sua propensione però è anche chiaro che ci si scontra con una necessità dal punto di vista lavorativo che è quella oggi ad esempio di avere tanti infermieri purtroppo OS comunque che sono sempre più indispensabili anche negli ospedali, nelle case di riposo, nelle case di cura e dal punto di vista magari dei settori privati metalmeccanico ad esempio è alla ricerca di figure professionalizzate che abbiano caratteristiche specifiche che purtroppo non ci sono o si scontrano con la necessità effettivamente di chi ha quel profilo anche di avere un certo grado di sensibilità abbiamo visto i dati appunto di quelli che si dimettono perché c'è una ricerca di un benessere di vita che ritorniamo al discorso di prima c'è proprio questa ricerca allora da questo punto di vista va fatto un lavoro importante anche sulle politiche attive cosa che noi appunto su cui noi stiamo spingendo anche in virtù del fatto che ci sono anche delle possibilità che sta mettendo in campo anche il governo oltre a quelle che c'erano già in Regione Veneto vedi l'assegno per il lavoro che ci danno la possibilità effettivamente di orientare e di spingere e di favorire insomma un inserimento lavorativo anche per quelle persone mi permetto di dire per quei candidati che oggi sono anche spaesati da un mondo del lavoro che sta cambiando la politica attiva e lavoro lo spieghiamo bene questo è molto importante e lo codifichiamo per i non addetti ai lavori entriamo anche nel merito specifico delle competenze di Alessandra tra poco dopo la pubblicità grazie a tutti grazie a tutti